La mostra di arte presepiale La mostra è composta da tre settori, il primo settore è dedicato ai presepi aperti, cosiddetti che sono visibili almeno da tre lati e poi un'altra sezione è dedicata ai diorami che sono quei presepi che vengono visti attraverso un boccascena per creare più effetto di profondità e fare in modo che chi guarda la scena sembra di essere all'interno proprio del presepe. E poi un altro settore è dedicato invece alle sculture con una sezione dedicata ai presepi antichi con dei bambinelli di cera, dei pastori di fine Novecento, curata dall'associazione Amici del Museo. Allora, in questo caso appunto parliamo di diorama, cioè a dire un presepe che è visibile solo da un'apertura chiamata appunto boccascena. Questo perché? Perché si riesce a creare così un effetto tridimensionale di profondità e di prospettiva in maniera tale appunto che guardandolo sia un effetto prospettico e sia appunto la sensazione di essere all'interno della scena che viene vista. In questo caso appunto è un'adorazione dei pastori con l'effetto profondità delle montagne e il paese in secondo piano. Questa è un'altra natività ambientata appunto con un paesaggio tipico palestinese. Anche i pastori sono realizzati appunto con un abbigliamento tipico del tempo. Allora, la tecnica più usata è quella del gesso. Polisterolo come base, poi rivestito in gesso. Quindi il diorama in pratica non rappresenta necessariamente la scena della natività ma può rappresentare i vari passi del Vangelo. In questo caso vediamo appunto la fuga in Egitto dove si vede attraverso le aperture di un tempio egizio Maria e Giuseppe con l'asino che appunto vanno via da Betlemme in fuga verso l'Egitto. Ecco, questo è un tipico esempio di presepe aperto. Sì, visibile da almeno tre lati. Può essere, noi li dividiamo diciamo in due settori, presepe popolare e presepe orientale. Presepe popolare è l'ambientazione realizzata in qualsiasi tipologia di ambiente. Può essere anche un paese che possiamo trovare nelle nostre province. E questo è un esempio. E questo è un esempio. Oppure può essere, oppure appunto il presepe orientale dove invece c'è una collocazione storica, dove bisogna far fede a quelli che erano appunto i paesaggi palestimesi dell'epoca di Gesù con la ricostruzione delle case e dell'ambiente appunto tipico di quel periodo. E questo è un esempio. E questo è un esempio. E questo è uno silenzio per far addormentare il bambino, quindi è una scena che generalmente non si vede tanto spesso. Questo è un'artista spagnola, Montserrat Ribes Davios, che fa questa tipologia di pastori con pose non usuali che si visualizzano spesso negli altri lavori. Quindi mi è piaciuto proprio per questo, perché dà una sorta di intimità fra la Madonna e il Giuseppe. Ha anche lo sguardo di Giuseppe. Sì, 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 sì. È molto espressivo. È molto protettivo. Sì, 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 sì. E anche il bambinello in questa posa, diciamo, da bambino vero. Ecco, da bambino vero. Tranquillo. Ecco, tranquillo, che riposa. Questa posa un po' particolare.